Allora oggi vediamo in questo video come realizzare un tappo di ispezione per un impianto idraulico con la stampa 3D e perché dobbiamo realizzare questo tappo di ispezione? Perché ci è stato chiesto la possibilità che questo tappo non sia curvo qui sotto così com'è ma che sia tutto dritto quindi in modo tale che non vada quando tagliando il pezzo che va a pari delle mattonelle non vada a costruire un po' il tubo di scarico e quindi con Fusion 360 abbiamo realizzato il file del progetto da stampare e poi lo proveremo vediamo un attimino come andrà a finire e poi faremo il nostro test di questo tappo va bene? Allora vediamo un pochettino questo è il file realizzato del tappo ho anche inserito un foro in modo tale che può essere avvitato direttamente il tappo in metallo sopra questo è qua nel nostro programma di slicing e ora lo mandiamo in stampa eccolo qui abbiamo fatto un test di slicing ci vorranno circa 3 ore 18 e vedremo come si va bene o meno ora faremo prima un test e poi faremo il pezzo finale con materiale tecnico per ora procediamo con la stampa e ci vediamo fra un poco ecco qua il lavoro finito il tappo è stato stampato in ptg così il cliente potrà tagliare il suo tubo se evitare che la poliscita del foro venga ostruita dal tappo originale ecco qui avendo questa forma di imbuto finale questa forma di imbuto in impidiva poteva diventare un blocco invece così essendo tutto dritto non può sfruire nulla il lavoro è terminato grazie per averci seguiti e al prossimo lavoro ciao a tutti